Il Barletta ha calato il poker 4 su 4, le vittorie consecutive incasellate in questo avvio di stagione dei Biancorossi tra campionato di eccellenza e Coppa Italia di Lettanti. Il 2 a 0 del San Sabino di Canosa ha messo in mostra la forza di un gruppo capace di vincere anche senza alcuni big come Strambelli, Bottalico e Giambuzzi. L'assenza di Nicola sicuramente si avverte, l'assenza di Bottalico e di Giambuzzi perché sono elementi importanti. Nicola ovviamente ci dà tanta imprevedibilità. Quando manca Nicola, visto che ci mancava Nicola, dobbiamo mettere altre qualità in campo, qualità che sono le corde del Barletta Calcio, quindi cerchiamo di sfruttarlo. Adesso con calma recuperiamo sicuramente Domenica Bottalico, recupereremo Strambelli, Giambuzzi lo stiamo preservando. Nella sfida di Canosa, De Candia si è affidato al tandem offensivo formato da Lopez e Lattanzio. Il primo ha mandato in porta la Vopa per il vantaggio Biancorosso, il secondo ha assicurato qualità alla manovra. Qua dall'estita benissimo, comunque anche gli interpreti di Coppa in campionato il mister cambia tanto, quindi è il collettivo, non c'è il singolo, perché il singolo ti può dare la partita singola, ma i campionati si vincano con il gruppo. Il bis al San Sabino l'ha servito il Baby Leone, recupero del pallone sulla trequartia avversaria e sinistro preciso in rete. Donatello ha un approccio, quando subentra l'abbiamo vista in casa dell'Unione Bisceli e anche oggi è uno veramente mentalizzato, lui è entrato, sapeva benissimo il compito suo, è andato in pressing sul suo diretto avversario, è stato bravo, ma è da sottolineare soprattutto la freddezza che ha avuto nel mettere la rete con la palla e per un giovane del 2005 veramente da sottolineare. C'è un aspetto in cui il Barletta deve migliorare, sottolinea il suo allenatore, la squadra tende a volte ad abbassarsi, una volta in vantaggio. Sono stati bravi anche dopo il gol a continuare, la cosa negativa è che dopo il gol abbiamo continuato per altri 5-10 minuti e poi dopo invece abbiamo abbassato un pochettino il ritmo e poi si è data la possibilità alla squadra avversaria di prendere il coraggio e di impensierirci, cosa che non dovevamo assolutamente fare perché abbiamo detto in premessa e l'abbiamo verificato oggi che è una squadra forte quindi non andava assolutamente dato la minima possibilità di poterci fare male, invece noi siamo stati un po' ingenui, abbiamo abbassato un po' il ritmo. Stiamo già lavorando per questo, ci sono le settimane che non abbiamo avuto modo di preparare a quello perché gli abbiamo avuto la coppa però il mister il primo tempo ce l'ha detto subito e ha ragione. Testa al Manduria atteso nel prossimo weekend al Puttilli, il Barletta è l'unica squadra del campionato a punteggio pieno ma non per questo può permettersi di abbassare l'asticella dell'attenzione. Nel momento in cui dovessimo pensare questo non vuol dire che abbiamo sbagliato tantissimo, tantissime cose se invece la nostra deve essere una squadra ad immagine di somiglianza mia si potrà pensare di aver fatto qualcosa di buono quando si tirerà una linea finale questa è la linea finale sicuramente non la si tira né a settembre né a ottobre né a novembre